Una finanziaria concentrata sugli investimenti, in particolare alle attività produttive. Questo è il principio cardine espresso oggi dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga riguardo la manovra di bilancio in corso di discussione in questi giorni in Consiglio regionale. Tanti gli emendamenti e molti i punti di discussione che porteranno l'Aula all'approvazione delle finanziarie a notte fonda. Ed è la leva dello sviluppo, dopo quello già messo in opera per la famiglia, il principio cardine voluto dalla Giunta. Noi mettiamo all'anno, dal 2022, 100 milioni di euro all'anno per attrarre investimenti e creare sviluppo. Quindi un potenziamento. Noi abbiamo incentrato la legge dello scorso anno sulla famiglia, con importanti risorse che vengono confermate. Tenete conto che non abbiamo più che triplicato i fondi per la famiglia ed è diventata una spesa costante nella Regione. Quest'anno andiamo a mettere invece come spesa costante lo sviluppo, quindi creazione di lavoro e di imprese in frequenza Giulia. I dati ci dicono che siamo la Regione che cresce di più come pilli in tutto il nord-est, ma vogliamo prendere questa onda positiva di crescita per stabilizzarla e guardare al futuro. Molta attenzione anche alle politiche della casa e dell'edilizia scolastica. Federica rivendica gli sforzi messi in campo rispetto al passato. Andiamo a mettere diverse risorse sulla scuola, sulla casa, perché a differenza di quanto dicono le opposizioni, noi mettiamo quasi tre volte le risorse che loro mettevano sulla casa in modo permanente. Non soltanto i 103 milioni di euro che abbiamo messo quest'anno sulle politiche e sulla casa, ma andrà, che era ovviamente misura straordinaria, ma a regime noi mettiamo quasi tre volte quanto metteva il centro-sinistra quando governava questa Regione. Sul fronte pandemico l'analisi attuale è quella di un lieve rallentamento della curva dei contagi, con uno spostamento delle incidenze più marcate nelle province di Udine e Pordenone. E la stagione invernale, con il conseguente turismo scistico, è appena cominciata. Per tutto il turismo invernale le misure che abbiamo messo in campo con il Super Green Pass servono proprio a dare garanzie. Anche se nell'ipotesi in cui, malgritamente, una Regione dovesse diventare arancione, con il Super Green Pass di fatto le regole per chi è vaccinato, per chi ha superato la malattia, rimangono quelle della zona bianca. Quindi vuol dire hotel aperti, ristoranti aperti, possibilità di andare sugli pianti di sci. Una misura che hanno avuto delle Regioni, che è stata fatta su proposta di Frivenenza Giulia, ma che dà garanzia a tutte queste attività economiche. Però si resta gialli, comunque. Però si resta gialli, mi auguro che rimarremo gialli anche in futuro. Le nostre previsioni ci dicono che questo dovrebbe accadere, anche se purtroppo il virus ci ha messo di fronte in questi due anni quasi, a sorpresi inaspettate, molte volte negative. Però le previsioni della nostra task force dicono che dovremmo tenere la zona gialla. Grazie.